Come Flavio Stilicone prima di lui, Ezio riteneva di poter garantire più facilmente la salvezza dell'impero romano d'Occidente attraverso la via diplomatica che non attuando uno scontro frontale con le forze unne rimaste. Così nel 452 d.C. tentò di stipulare con Attila un accordo di alleanza, ma i suoi sforzi furono vanificati dall'accesa opposizione dell'aristocrazia romana che vedeva in Attila soltanto un crudele nemico da abbattere. Nello stesso anno il condottiero Unno invase l'Italia, devastando la pianura badana, saccheggiando importanti città come Milano e Pavia e radendo al suolo la città di Aquileia. Attila però non riuscì a raggiungere né Ravenna nel Roma, poiché un'ambasceria capeggiata da Papa Leone I lo fermò lungo il fiume Mincio, nei pressi di Mantova, convincendolo ad abbandonare la penisola. Attila poi morì l'anno successivo, cioè il 453 d.C., e nel giro di poco tempo quello che era il suo vastissimo impero nomade si dissolse nel nulla.